20-25 anni fa quanto ascoltavano le associazioni? Qual era il ruolo delle associazioni con i medici? Un optional. Qual era il ruolo delle associazioni con la ricerca? Niente. Probabilmente hanno cominciato a rivalutarci verso il 2005-2006, quando cominciavano a chiedersi when to start, quando cominciamo la terapia, come la switchiamo, quando la smettiamo, la possiamo interrompere, perché lì avevano veramente bisogno del nostro aiuto. Però di fatto siamo diventati amici negli ultimi 15 anni, nel senso che voi avete cominciato a valutare il nostro valore aggiunto, e probabilmente noi siamo riusciti a usare un linguaggio che ci potesse favorire, ci potesse far capire reciprocamente. Sbagliato generalizzare. Esatto. Un senso sia in un altro. Diciamo che certamente i rapporti sono cambiati ed è cresciuto, diciamo, rispetto e ascolto, ma è cresciuto in momenti e durante periodi di leadership, anche all'interno del mondo infettivologico, che avevano una forte propensione a questo. Ogni tanto vediamo anche dei grandi stop e ancora delle posizioni poco confortanti. Penso solo a due anni fa, un importante simposio di icona, un approccio al tema ui qualsiu, definire poco scientifico è un grande atto di rispetto e signorilità. Però delle cose sono cambiate, anche le istituzioni l'hanno capito, o meglio si sono adeguate alle direttive degli organismi mondiali, perché poi a partire da un AIDS tutta una serie di input sul coinvolgimento di comunità e pazienti, persone con HIV sono molto frequenti. Va detto che anche il governo italiano ha firmato da molti anni impegni formali che hanno fatto sì che comunque le competenze, l'espertise del mondo delle nostre associazioni diventassero, diciamo, venisse condiviso con l'espertise clinico-scientifica a beneficio reciproco delle persone, delle persone con HIV, ma anche della ricerca e di una ricerca più attenta a una serie di bisogni. Non so, io intanto dicevo questa cosa, poi sfrutto che c'è Cristina, perché vedo che poi magari è l'unica rappresentante del mondo clinico in questo momento. L'altra cosa grande che volevo dire, che volevo ringraziare, era la professoressa Chiroz di Brescia e anche Simona di Gian Benedetto, che stamattina in modo molto esplicito, aperto e tranquillo e sereno hanno ammesso apertamente che la pandemia da Covid ha creato problemi enormi alle persone e alle strutture. Lo voglio dire con grande forza, mi dispiace che non ci siano entrambi, probabilmente glielo scriverò, perché invece io alcune volte ho avuto un po' di difficoltà ad ascoltare racconti della cura delle persone con HIV in pandemia, che rappresentavano una realtà, diciamo almeno non tanto aderente con le segnalazioni che a noi arrivavano, che a tutte le associazioni arrivavano, per cui io penso che il rispetto e la cooperazione, anche attraverso l'ammissione di difficoltà sia la strada per aumentare la cooperazione, e lo volevo proprio dire perché, come ho detto, non lo nascondo, in alcune situazioni, penso anche alcuni interventi a ICAR o in altri seminari, la rappresentazione di una situazione emergenziale, descritta come, ma no, non ci sono stati problemi, abbiamo telefonato, ma sì, hanno avuto un po' di problemi a ritirare i farmaci, ma poi si sono arrangiati. Ecco, è perlomeno distante da quello che è stato registrato praticamente dalla totalità delle nostre organizzazioni, che hanno dovuto attrezzarsi, inventarsi cose per cercare di favorire, per esempio, il reperimento dei trattamenti antiretrovirali. Abbiamo fatto una piccola survey, tutti insieme, abbiamo scritto al Ministro, sappiamo per certo che tutti i nostri gruppi si sono dovuti attivare per, appunto, aiutare i centri, ma una rappresentazione così tranquillizzante era anche lontana da tutte quelle che erano le telefonate, le mail, i post sui vari forum, che invece dicevano come è stato difficile questo momento, questo momento di pandemia. Volevo, volevo proprio per quello che stai dicendo tu ricordarti la difficoltà che abbiamo avuto fino al 18 gennaio per tirare fuori un documento condiviso, ma non perché le associazioni non lo condividessero da portare al Ministro, perché nessuno di Simit, tranne Antinori, ci ha dato una mano, neppure gli epidemiologi, sì o no? Io veramente sono nel direttivo Simit, a me non è stato chiesto niente. No, 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 infatti io... Io sono nel direttivo, a me non è stato chiesto nulla. Io non a caso. Comunque cerco di rispondere. È vero, forse mi pare era il 6 luglio, abbiamo chiesto una cosa in una riunione al Ministero della Salute, cioè abbiamo chiesto che qualcuno, Simit, in quanto società scientifica si impegnasse per definire dei percorsi che dovevano essere garantiti, perché a quel tempo, ancora a luglio, in certi posti, le persone con HIV non potevano entrare nei loro reparti soliti di malattie infettive, perché erano stati totalmente adibiti a Covid. Ci è stato detto il 6 luglio, ma sì, lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Ecco, poi non è successo più niente, abbiamo dovuto risollecitare, riscrivere al Ministro, fare azioni di pressione e finalmente si è messa in moto una macchina che dopo sette mesi, è quando stiamo parlando di emergenza, sette mesi di tempo per la produzione di un documento che poi dovrà essere recepito dalla conferenza Stato-Regione. Ecco, è un po' una roba bislacca, un po' priva di senso, però questo è quello che è successo, adesso questo documento c'è, deve ancora essere pubblicato in gazzetta ufficiale, mi rassicura solo il fatto che stamattina Stefano Vella ha detto che l'emergenza Covid durirà ancora per molti anni e quindi questo documento non sarà carta straccia, ci servirà per almeno i prossimi due o tre anni, perché se no davvero quando la conferenza Stato-Regione mai lo recepirà e verrà pubblicato in gazzetta, se era una cosa veramente emergenziale, come dicevano alcuni, che si sarebbe conclusa nell'arco di 12-18 mesi, ecco, avevamo speso delle grandi energie e del tempo per nulla. Questa è un po', sono un po', diciamo, una serie di aspetti critici, ecco, che ce ne sono anche alcuni altri. Però Cristina ci sta dicendo che non ne sa nulla, il che significa che i medici che stanno al CTS non hanno trasferito questa necessità come necessità... Ma neanche al direttivo CIMIT, perché io li ho fatti tutti i direttivi CIMIT, per cui, per carità, ma non voglio... Cioè, nessuna polemica, cioè non voglio dire, dico solo che io non ho saputo. No, no, l'altra cosa che mi spiace un po' è che io credo che i disservizi per quanto riguarda l'infezione d'HIV siano dovuti in molti centri, cioè a seconda della priorità che tu dai all'infezione d'HIV. Cioè, se per il tuo centro è una patologia importante, allora è una delle prime cose che cerchi di risolvere. Quella di... per dire adesso da noi in farmacia hai l'app, hai l'app, hai l'appuntamento, te li danno esattamente in quell'orario lì? Cioè, non lo so, insomma, per dire. Ci sono purtroppo centri o più piccoli o meno interessati, perché semmai le linee di ricerca, le linee di interesse non includono molto l'HIV e per questi centri invece avere linee guida generali italiane sarebbe estremamente importante, a cui attenersi o linee guida regionali sarebbe estremamente importante. Quindi, non so che dire. Io credo che la disruption all'inizio proprio sia stata... cioè, nessuno dei miei pazienti voleva venire vicino neanche, perché poi c'è stato il lockdown subito dopo, neanche vicino alla clinica. Quindi abbiamo fatto tutto al telefono, da lì in poi noi abbiamo riaperto gli ambulatori, appunto, da settembre, ormai sono tanti mesi, nonostante la seconda e la terza onda siano stati pure più impattanti per noi, come numero di pazienti ricoverati di Covid. Però, insomma, dipende appunto se è una cosa importante, abbiamo mantenuto aperto. Chiaro, invece di aver cinque giorni a settimana, abbiamo due giorni a settimana di clinica metabolica. Cioè, dire che una pandemia non abbia un impatto sarebbe fin ridicolo. Detto questo, però, la resilienza sta proprio nel cercare di mantenere... cioè, abbiamo interrotto nel periodo di Massimo Picco le attività chirurgiche e oncologiche nell'ospedale, secondo voi, cioè, voglio dire, la situazione era veramente estremamente problematica. Io sono, per esempio, d'accordo, Cristina, che alcuni centri hanno risposto meglio di altri, ma che in alcuni centri dove ci sono stati problemi più grandi, in realtà c'erano problemi antecedenti. Esatto. La pandemia da Covid, perché, per esempio, l'esempio che tu fai, riduzione di aperture da settimanale a alcuni giorni, ci sono posti, purtroppo, dove già ci sono aperti ambulatori per poche ore o pochi giorni e le riduzioni, cioè, lo sappiamo, la situazione della qualità della cura e dell'assistenza nei reparti di malattie infettive in Italia è davvero molto, molto diversificata e ci sono certamente una serie di centri di eccellenza, tra cui voi, però c'è anche una grande quota di centri dove i problemi sono stati gravi, gravi, importanti. e questo è un dato di fatto. Come capiremo l'impatto di questi problemi? Intanto ci sono ordini, nelle presentazioni fatte già era evidente, di tipi diversi. Ci sarà un impatto, c'è stato certamente un impatto sull'accesso al test, quando saremo in grado di misurare il danno di questo impatto ci vorranno un paio di anni, da un punto di vista epidemiologico. Io, lo sapete, sono sempre poco carino con l'Istituto Superiore di Sanità e i suoi dati, perché, perché lo sapete, penso che i dati del 2020 e del 2021 potrebbero subire di una sottonotifica molto importante, perché in alcuni centri le stesse persone dovevano notificare per HIV, dovevano notificare per Covid, in alcuni posti addirittura dovevano fare il tracciamento. Quindi, chissà cosa succederà, lo vedremo, come capiremo, spero, che il supporto alle corti, per esempio, Icona, penso che sia una cosa molto importante, perché tiene dentro davvero tanti centri, capire che cosa è accaduto nelle interruzioni di tutti quegli esami diagnostici e di quelle analisi necessarie per monitorare comorbidità, danni d'organo, e anche questo ci vorrà un pochino di tempo, perché lo sappiamo, non sono cose evidenti come io sono, e per certi aspetti, mi colpiva molto il dato di Brescia sulle cariche virali, diciamo che se ho capito bene alcuni passaggi invece della presentazione di Cristina, loro hanno registrato una diminuzione, diciamo, della quota di viremia soppressa, lo trovo abbastanza logico, no? Abbastanza logico, non mi stupisce. Altre due cose, visto che poi le popolazioni vulnerabili, purtroppo l'impatto della pandemia non è una novità, cioè si abbatte sempre su questi gruppi di popolazione, abbiamo visto donne, stranieri, pensiamo a cosa è successo ai servizi per migranti, ma anche ai servizi per chi consuma sostanze stupefacenti, droghe, insomma, sono stati praticamente sospesi per tre mesi, tutta una serie di attività, quindi l'impatto su questi gruppi di popolazione lo vedremo. altro tema molto importante che mi sento di risottolineare, che ha a che fare anche con le vulnerabilità alla telemedicina. Io, lo sapete, lo dico abbastanza in modo esplicito, sono disponibile, per non dire a favore di questa, diciamo così, opportunità che Covid ci dà, perché in alcuni casi penso che se fatta davvero come telemedicina e non come sostituzione, per esempio, Cristina diceva il telefono, ecco, forse bisognerebbe vedere evoluzioni. Ho sentito che dice, ho anche visto la presentazione di Giovanni di una nuova app che favorisce, ma in quei frangenti poi si parlava di telemedicina e si faceva riferimento alle telefonate. La telemedicina potrebbe essere, per esempio, per quei centri che hanno grandi lacune anche oggi, un'opportunità per colmare un gap che che ora non è colmato. Certo però vanno dette delle cose, ci sono delle persone che per attitudini personali, un po' come diceva Cristina, io non mi trovo tanto in quella cosa lì, alcune persone, forse le più anziane di età, forse, chi lo sa, ma per alcune persone la telemedicina potrebbe non essere la strada indicata, intanto perché non hanno un'alfabetizzazione telematica sufficiente, perché non hanno gli strumenti telematici, quindi questo è un nodo e una questione che ci deve un po' interrogare tutti, quindi i centri, adesso c'è grande spinta alla telemedicina, dovremo ragionare, ma dovremo ragionare su, diciamo, dei limiti per questa telemedicina e quindi delle cose che includano anche pazienti che non sono disposti o non possono accedere a questo. Una cosa che ritengo davvero tanto importante, perché il pezzo di stamattina di Stefano Vella è una cosa che ci deve far riflettere, io per certi, per un'oretta ho sperato di aver capito proprio male, 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 poi però non mi è sembrato di aver capito male, 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 questa cosa andrà avanti per molto tempo, ha detto che i vaccini hanno una copertura, diciamo, molto limitata, che andranno rifatti, che saremo in questa situazione ancora per molto tempo. Questa cosa a noi non si può non riguardare, perché questa cosa ha a che fare con l'accesso ai trattamenti, alle battaglie che avevano fatto tutte le nostre organizzazioni, e il problema dell'accesso al vaccino è un problema enorme. Avete sentito cosa ha detto Stefano, per cui mi permetto di invitare tutti. C'è una mobilitazione europea per chiedere una moratoria sui vaccini, si chiamano ICE, iniziative dei cittadini europei, quindi una raccolta di firme per portare in discussione al Parlamento europeo, la proposta di moratoria di almeno due anni sui vaccini, questo consentirebbe di produrre i vaccini alle nazioni con le tecnologie disponibili. Adesso scrivo in chat, è molto facile, si chiama No Profit on Pandemic. Invito davvero tutti a firmare per questa petizione, perché Covid non ha fatto altro che ributtarci in faccia tutto quello che è avvenuto con l'HIV 40, 30, 20 anni fa, lo sta facendo ancora con una forza devastante e questo è una cosa che, voglio dire, non ha senso. Per cui questa era l'ultima cosa che volevo dire. Grazie. 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 Grazie.